La sezione Previte contiene decine e decine di carte che involontariamente ci dicono molto del gioco. Carte che vanno a manipolare il vantaggio carte, carte che fanno danno d'effetto più volte per turno e altre che invece ci permettono di andare a escludere l'avversario dal gioco o addirittura di escludere intere meccaniche. Questa serie ha lo scopo di andare a indagare su ogni carta presente in lista, spiegando perché si trovano lì e se possibile farle uscire di prigione, andando a trattare anche una possibile errata. Inoltre abbiamo un twist per questa serie, infatti non esiste nulla di oggettivo e ci sono sempre punti di vista differenti. Quindi ho deciso di andare a trattare la spiegazione come la tratta solitamente e poi dopo aver spiegato la carta andiamo a confrontare la mia opinione con la vostra. Io sono T-Matrix e vi do il benvenuto in Carte Proibite, perché si trovano lì e possono tornare? Questo canale è sponsorizzato da Pantaglia Store, acquista Funko Pop, manga e giochi di carte con il codice sconto T-Matrix 5. E inoltre, questo canale è sponsorizzato anche da Cartrader, un sito di compravendita online di carte Yu-Gi-Oh! Pokémon e Magic, nel quale se ti iscriverai utilizzando il mio link avrai 2€ gratis sul tuo conto. Link in descrizione. La meccanica Link, introdotta in Master Rule 4, presentava una dichiarazione di intenti di rendere il gioco più lento, visto che alla fine dell'era Pendulum le vocazioni Sync e le vocazioni Xyz erano davvero troppo accessibili. Tuttavia, i mossi Link erano troppo generici e creavano talmente tanto vantaggio che il gioco sembrava essersi velocizzato. Velocità che venne enfatizzata ancora di più in Master Rule 5, dove le imitazioni delle vecchie meccaniche vennero tolte, andando a rompere completamente mossi Link che se prima erano forti, ora si trovano in Banned. Christon Alki Pybrax, Link Rating 2 che si fa con due mostri compreso un tuner. A due effetti, entrambi sono hard ones per turn, questo vuol dire che anche se giocato in molteplici coppie, non potrà andare ad attivare questi effetti più volte nello stesso turno. Se questa carta viene evocata Link, puoi evocare specialmente un tuner di livello tra inferiore dalla mano o deck in posizione di difesa, ma Est non può attivare i suoi effetti in questo turno. Questa restrizione dura soltanto finché il mostro che è andato a evocare rimane sul terreno, tuttavia appena tocca il cimitero, quel mostro può fare la qualunque. Se ha effetti secondari al cimitero li può attivare, se ha effetti secondari sul terreno, se è riciclato li può riattivare e quindi alla fine non è davvero tutta sta grande limitazione. Durante la main phase o battle phase al tuo avversario, in effetto rapido, ti permette di bandire questa carta che controlli e poi puoi evocare specialmente un mostro sincro tuner dal tuo extra deck e questa viene considerata come una sincro evocazione. Questa carta fu bannata in settembre del 2022 ed è stata un problema sin da rilascio. È evidente come questa carta volesse andare ad aiutare i maxi sincro a fare quello che hanno sempre fatto, però con i monstri Link. Inoltre ovviamente ha diverse applicazioni, ma tra le più memorabili possiamo vedere la combo Alky, Selene, Access Code in mazzi come Escape Striker, che evocando il Veiler ti permettevano di accedere a Selene e poi ti permetteva di accedere ad Access Code. Inoltre abbiamo la combo Alky-Dagda, una combo davvero molto pericolosa. Infatti grazie ad Agda basta scureggiare e andiamo a settarci i falci direttamente dal deck. Con Alky-Fibrax appena l'avversario prova a fare qualcosa, lo andiamo a bandire, evochiamo la TG Maga Meravigliosa, ci spacchiamo la falce, falce attiva il seppetto di andarti a rievocare e a non permettere all'avversario di evocare da extra per il resto del turno e poi grazie all'effetto secondario della TG Maga Meravigliosa possiamo andare a fare sincrono durante il turno dell'avversario e quindi andiamo a evocare barone. Quindi l'avversario non può evocare da extra, inoltre ha un barone contro cui andare, quindi davvero una situazione terribile. Attualmente questa carta può essere sbannata? Come molti di voi dicono, assolutamente no. Avere questa carta nel gioco equivale a limitare la potenza dei mosti tuner che usciranno, perché ovviamente la Konami deve girarci attorno. Inoltre vorrebbe dire anche bannare molti dei tuner che adesso sono liberi. Infatti Alky-Fibrax rende qualsiasi tuner all'interno del gioco consistente da giocare, ed è questo il suo più grande pregio. Abbiamo due opzioni per andare a correggere questa carta. La prima è limitarla su archetipo, quindi non so, blocchiamo i materiali in Criston. Tuttavia, penso che basti semplicemente andare a limitare la possibilità di evocare specialmente i mosti di Alexa Deck, se non i mosti Synchro, evitando quindi la maggior parte dei problemi che questa carta ha creato, quindi Link Climbing. Però ho comunque paura a rilasciarlo con la seconda limitazione, però ditemi voi qua sotto nei commenti. Un compagno di merende di Alky-Fibrax è sicuramente lui, Auroradon, un macchina-vento di Link Creating 3 che si fa con due più mosti di macchina. Questa carta è stata bannata il maggio del 2022, quindi un anno esatto fa. Partiamo già bene, visto che è ristretto, ma ricordo che Alky era un macchina, quindi basta evocare un tuner macchina. Ha due effetti questa carta, e uno diciamo che sono molteplici effetti, ma alla fine è soltanto uno. Il primo ci dice che se evocazioni Link andiamo a metterci tre token segna-bestia-fantasma-meccanica sulla nostra bar di campo, e si farà la dimosti di macchina a vento, livello 3, attacco 0, difesa 0. Però per il resto del turno non possiamo andare a effettuare evocazioni Link. Un'ottima restrezione per un token generator, visto che la maggior parte di questi erano rotti perché non andavano a limitare le evocazioni Link. In secondo luogo, una volta per turno, puoi offrire come tributo fino a tre mostri, e poi applicare uno di questi effetti. Se ho aperto come tributo soltanto un mostro, distruggi una carta sul terreno. Se ho aperto due, puoi evocare specialmente un mostro-bestia-fantasma-meccanica della tua deck. O tre, aggiungi una trappola dal tuo cimitero alla tua mano. Prima vi ho detto che Alkifibrax rendeva consistente ogni tuner del gioco, come per esempio Despot 001, che abitato ad Auroradon, creava la combo Alkidon, una delle più forti con Alkifibrax. Una strategia che consisteva nel spammare più volte il Despot 001, un mostro che si evoca se vengono evocati specialmente più mostri macchina allo stesso tempo. E tutto ciò non è once per turn. Questa carta può tornare? Assolutamente no. Infatti questa carta non solo spammatoken, ma ti dà anche il tuner, che è la parte più forte di questa carta. Infatti se avessi spammato soltanto i token, ci poteva stare, perché è anche la soluzione che abbiamo creato per Tomahawk Galattico. Permetterti di avere accesso a O-Lion è grandissima come cosa, perché non solo andrai a fare giocate sincro, ma ti preparerai anche per la prossima giocata sincro. E quindi all'interno di mazzi come per esempio Super Heavy Samurai, sarebbe davvero troppo troppo sbroccata. Io per sistemarla la bloccherei direttamente al tuo archetipo, quindi semplicemente per il resto del turno in cui questa carta viene evocata, non puoi evocare mostri se non mostri di bestia e fantasma meccanica. Altrimenti va a fare facilmente qualsiasi sincro esistente all'interno del gioco. Ma passiamo a Link Cross. Link 1 che si fa con un mostro Link 2 o superiore. In questa carta viene evocata Link, puoi andare ad attivare questo effetto. evoca specialmente un numero di mostri segna Link 6 verso luce, livello 1, attacco 0, difesa 0, fino alla classificazione Link del mostro utilizzato per l'evocazione Link di questa carta. Inoltre, non puoi utilizzare i mostri segna Link come materiali Link per il resto di questo turno. Stiamo parlando di una carta che crea un vantaggio assurdo, perché Auroradon effettivamente ti va a ricoprire un po' i materiali che hai utilizzato per andare a fare, perché ti spamma 3 token e poi volendo hai tante giocate. Link Cross da solo, in modo super semplice e in modo super generico, fa a convertire un Link 2 in tre mostri, ovvero lei e le token. Penso errata, è impossibile vederla all'interno del gioco. L'unico modo per correggerla è evitare che i token si possano usare per andare a fare evocazioni sincro, rendendola quindi utilizzabile, forse, come Link all'interno di un mazzo che fa evocazioni per tributo. Ma davvero la vedo dura. Quindi è difficilissimo andare a bilanciare questa carta per renderla effettivamente per all'interno del gioco e eviterei quindi di sbannarla in primo luogo. Adesso abbiamo due mosse in contemporanea di cui andare a parlare. Il primo è Guardrago Agar Pain, che si fa con due mosse Drago, e già qui capite qual è il prossimo, ovvero Guardrago Elfie, un mostro che si fa con un mostro Drago di livello 4 e inferiore. Entrambi hanno degli effetti che si dividono in restrizione e poi evocazione da dove cazzo voglio. Ovvero il primo è una restrizione che non ci permette di evocare specialmente mostri, eccetto Drago, finché questa carta è scoperta sul terreno. Quindi una limitazione che ci locca nel tipo più forte del gioco, che ok ce ne sciacchiamo le palle, ma comunque è qualcosa, evita di fare barone finché rimangono sul campo, che ok basta toglierli e fare altri link, però va bene, dai, possiamo capirlo. Il secondo effetto invece ci dice che durante la main phase, il primo ci permette di evocare un mostro Drago dall'extra deck, sì, non ho letto male dall'extra deck, in una zona mostri extra o in una zona mostri main, in cui puoi andare a evocare. Però questa zona mostri main deve essere puntata da due o più mostri link. Il secondo invece ci permette di andare a evocare specialmente un mostro Drago dalla tua mano o deck, in una tua zona puntata da due o più mostri link. Questo vuol dire che da una parte abbiamo accesso a tutto l'arsenale di mostri Drago dell'extra, e dall'altro invece dall'arsenale di tutti i mostri Drago del deck. Un po' too much a mio parere. Infatti il primo ha davvero tantissimi target, parliamo di numero 38, abbiamo l'Abistoro 20, abbiamo il nuovo link 5 Borrel, che non sono in targettabile e indistruttibile, ma quando va a negare non può essere attivato niente risposta, e quindi il secondo può permetterci di evocare mostri extender come Drago Metallico Scuro Occhi Rosti, ma davvero ci sono così tanti mostri Drago all'interno del gioco che mica posso nominarli tutti in un solo video. Dal mio tono di voce potete già capire come queste carte, a mio parere, non potranno tornare all'interno del gioco. Perché? Perché andrebbero a limitare il design di tutti i mostri Drago che uscirebbero dal loro rilascio dalla Bandlist fino al loro Ribun, e quindi ogni mazzo Drago diventerebbe assolutamente terribile, per non parlare di tutti quei mostri Drago decenti che abbiamo all'interno del gioco che verrebbero bannati perché queste carte li renderebbero rotti. Per l'errata possibile di queste carte, io direi o di bloccare gli effetti dei mostri con il nome di quello evocato, o di evocare direttamente dei mostri draghi senza effetti. Bannato a novembre del 2022, vi presento Il Mio Papa, ovvero Curioso, sovrano fedele della luce. Questo mostro si fa con tre mostri con lo stesso attributo, ma tipi diversi. Il suo effetto si divide in tre. L'assicurazione datagli dalla Meloni, ovvero se questa carta scoperta viene distrutta in battaglia o lascia il terreno a causa dell'effetto di una carta dell'avversario e il suo proprietario la controlla, possiamo andare a targettare una carta dal cimitero e aggiungerla alla mano. Una cosa carina che davvero non accadrà mai, però, cioè, non mi dispiace. Gli altri due effetti sono Ardons per turn e sono il motivo per cui questa carta è stata bannata. Il primo su Summon ci permette di andare a mandare una carta dal deck al cimitero. Sì, è la Valval Chain. Se una o più carte vengono mandate dal tuo deck al cimitero da un effetto, ti permette di andare a millare le tre carte dalla cimera del tuo deck al cimitero. Non solo mando la carta che voglio, ma anche la possibilità di farmi dei plus. Questa carta è sicuramente fortissima, ma perché fu bannata? Fu brevita, a mio parere, in prospettiva del meta tier 0. Dato che si avvicinava all'uscita delle carte Ishizu all'interno del gioco, per evitare ulteriori problemi, si è bannata questa carta. Ed è l'unica spiegazione che mi posso dare, visto che questa carta era stata poi scartata come tech all'interno di molte liste. Visto che comunque un po' di gioco prima ce l'aveva. Infatti, Luna Tier Danger era un abbinamento di tre archetipi che ti permetteva di avere questa carta praticamente garantita di turno 1 e inoltre ti andava a creare un vantaggio incredibile, tanto che questa carta veniva utilizzata non per andare a millare dei monsti tier o delle carte che hanno degli effetti al cimitero, ma per andare a mettere dei floodgate, come per esempio Anti-Spell. Infatti, dopo aver evocato il curioso e aver mandato la carta floodgate al cimitero, fai a fare giocate link climbing classiche del Lunalight e poi ti permettono di fare grifone e grifone ti permette di andarti a risettare carte trappola dal cimitero. E ciò era davvero tanta tanta roba, perché avere dei floodgate cercabili, poi in prospettiva di un mazzo che comunque anche senza quelli era già forte, era un po' troppo. Però era una strategia abbastanza briccosa che poteva perdere anche da monointerruzione e quindi alla fine giocare curioso all'interno dei tierlaments era stato scartato già prima del suo ban. Ma quindi può tornare? A mio parere, assolutamente sì. Infatti è una carta che di per sé, attualmente, non farebbe grandi cose se non mazzi rogue che giocano ancora le tierlaments. Però io vorrei andarla a limitare, almeno nei materiali. Infatti, anziché mettere tre mosti con tipi diversi ma con lo stesso attributo, andiamo a mettere direttamente tre mosti fedeli della luce. Anche perché effettivamente così è più facile evocare il suo archetipo e evitiamo cazzate future. Chiudiamo il video con il link 3 più forte del gioco. La momi, la regina, la queen, mia madre, come volete chiamarla, stregona, evocatrice. Si fa con due più mostri con lo stesso tipo, eccetto il segna mostro. E quindi? Sì, evidentemente non può essere giocata con i token generator, ma se sono tutti bannati non vedo dove sia il problema. Questa carta ha due effetti. Se questa carta viene evocata a link, ci permette di evocare specialmente un mostro dalla mano in posizione di difesa, in una zona del tuo avversario puntata da questa carta. Sì, so che pensate di evocare gli scepi di Ra o cazzate varie, ma lasciatemi finire l'effetto. In hard ones, puoi scegliere come avversario un mostro scoperto puntato da questa carta, anche quello che abbiamo evocato dalla mano per il suo effetto, e di evocare specialmente dal tuo deck in posizione di difesa, un mostro con lo stesso tipo di quel mostro in una zona puntata da questa carta. Ma i suoi effetti sono annullati. Ok, sinceramente non so da dove partire. Potremmo perderci davvero tutto il video per parlare di questa carta, però cercherò di essere schiscio. Parliamo di una carta con un potenziale infinito a livello di Ftk, Ftk e Link Climbing. Il primo effetto aiuta a preparare degli ingredienti da cucinare con il secondo effetto, che abbiamo potuto imparare nel corso della serie, che è tanta roba. E come vi dico, da quando questo canale è nato, un search, o comunque uno che ti va a specialare i mostri da deck, è forte in base ai suoi target. E questa carta ha letteralmente tutti i mostri del gioco come target, cioè è assurda. Livelli bassi, livelli alti. La sua esistenza compromette l'interità del design del gioco, cioè ci rendiamo conto? Questa carta renderebbe la maggior parte dei mostri carini all'interno del gioco bannati, perché altrimenti sarebbero troppo sbroccati. La carta che poi andrebbe a limitare il design di tutte le carte che verrebbero dopo di essa. Allora, l'errata di questa carta è così. Iniziamo con una restrizione, ovvero per il resto del turno in cui questa carta viene evocata, non puoi andare a effettuare evocazioni di Link, andando a rendere questa carta utilizzabile soltanto in strategia Synchro Xyz o Link dopo che hanno finito di giocare, ma dubito che lo utilizzino. Inoltre, l'effetto secondario che evoca da deck è molto molto diverso. Puoi scegliere come bersaglio un mostro scoperto puntato da questa carta, rimischiava nel deck e se lo fai, evoca specialmente l'altro deck in posizione di difesa un mostro con lo stesso tipo di quel mostro, ma con nome diverso, inoltre i suoi effetti non potranno essere attivati per il resto del turno. Inoltre, se lascerà il terreno, verrà messo in fondo al deck. Rimischiandolo, evitiamo quindi che ci siano delle lock strane che si possano andare a creare e allo stesso tempo andiamo a supportare magari delle strategie in modo generico. Grazie a tutti.